A CRIMAUS 2017 presentiamo una delle ultime nostre novità che è il Norma Block più taglio termico. È una linea di blocchi in laterizio portanti riempiti di polistirena additivata con graffite e il loro scopo è quello di isolare termicamente la fondazione dalla muratura. Può essere utilizzato in tutte le zone sismiche appunto perché ha una portata identica a quella di tutti i laterizi. Come potete vedere è sufficiente porre una guagna tagliamuro sulla fondazione, il nostro Norma Block più taglio termico per garantire un corretto isolamento in senso verticale. Il Norma Block più taglio termico è disponibile in vari spessori da 12 cm fino a 45 cm per soddisfare tutte le esigenze progettuali. Vi ringrazio e vi invito a visitare il nostro sito www.danesiratterizi.it per ulteriori informazioni.